Che cosa è successo alla Nardoggi che ha subito in realtà le prime tre reti di questo campionato qui a Brindisi in trasferta? Statisticamente doveva accadere perché insomma mantenere questo primato non era facile. Ci siamo riusciti per quattro giornate e oggi siamo venuti qui. Non abbiamo fatto una grandissima gara, ci sono state delle situazioni da rivedere perché è vero che abbiamo preso tre gol però è da rivedere il terzo gol loro. Secondo me c'era un fuorigioco, sullo 0-0 c'è un rigore su Mariano però non sono azioni da poter giustificare poi quei dieci minuti dove abbiamo concesso spazio alle punte loro. Quello che poi non avevamo fatto nel primo tempo perché nel primo tempo a parte quella punizione deviata il Brindisi non abbia poi calciato tantissime porte, sì quel possesso palla era un possesso palla che poi alla fine non era finalizzato. Il rigore ha cambiato un po' la gara, se non ci fosse stato quel rigore al 25esimo del secondo tempo mancava 20 minuti. Può darsi che era un altro tipo di partita. È chiaro che ha sbloccato a livello inconscio la squadra psicologica del Brindisi, sono difesi bene. Nelle ripartenze sappiamo benissimo che loro hanno giocatori molto veloci e rapidi ed è chiaro che poi c'è stato il secondo gol ed è stato molto più semplice gestire anche con l'espulsione mia, con l'espulsione del mio giocatore, giocare in dieci. Abbiamo subito il terzo gol che ripeto è da rivedere perché secondo me c'era un fuorigioco nettissimo. Però ecco sul 3-0 ci siamo messi sempre a giocare, abbiamo fatto il 3-1, abbiamo subito il 3-2. Diciamo che alla fine prendiamo di positivo negli ultimi dieci minuti ma prendo di positivo anche questa squadra fino ad adesso ha fatto tantissimo quindi ci può stare la sconfitta su un campo difficile, su una squadra che secondo me la ritengo una delle più forti di questo campionato quindi sicuramente fino alla fine lotterà per vincerlo. Quindi io un applauso l'ho fatto lo stesso ai ragazzi, ho detto fa niente, pensiamo a domenica che domenica abbiamo un'altra gara difficile col Barletta, prendiamoci questa sconfitta, le sconfitte a volte, dico a volte, fanno anche bene perché fanno riflettere. Ecco, diciamo che archiverai mister questa sconfitta come un incidente di percorso per continuare con serenità questo campionato. Sì, è un incidente di percorso, oltretutto noi stiamo, ripeto, noi l'abbiamo mai perso. Noi il nostro obiettivo lo sappiamo tutti, io a volte dico delle cose e molti allenatori dicono che si vogliono nascondere, io non mi voglio nascondere da nessuna parte perché noi siamo partiti per un obiettivo tranquillo, ho avuto la fortuna di vincere due volte questo campionato del Gione H e quindi posso garantire che non avevamo una squadra che potesse competere con gli altri, perché vincere il campionato significa avere tanti doppioni over di qualità, tanti under di qualità, avere un po' tutto e noi questo non lo avevamo perché avevamo un altro tipo di obiettivo. Però adesso sul mercato state agendo in maniera oculata, giusto per quello che vi serve? Sì, anche perché numericamente eravamo pochi, noi siamo 20, questi siamo, questi di oggi, non abbiamo una rossa di 24-25 elementi, noi siamo andati via 3-4 giocatori, ne sono arrivati 3, ma numericamente l'abbiamo, è vero, l'abbiamo alzata a livello qualitativo, però numericamente siamo sempre pochi, però ripeto, io per quello che mi ha chiesto la società noi andremo avanti cercando di fare quanti più punti possibili e poi niente, poi alla fine tiriamo le somme, noi ripeto, stiamo facendo benissimo, abbiamo 26 punti, ne mancano ancora due per il giorno di andata, abbiamo dato i due scondiretti, chiamiamoli così, scondiretti di alta classifica con Barletti e Altamura, vediamo quanti punti riusciamo a fare e poi a giorni andata tiriamo la linea e vediamo cosa possiamo fare nel giorno di ritorno.